5 sub 4 6 sub 4 Sì, 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 sì. Per sinistra 3 ritagga buca, ora sinistra 3 ritagga buca, questa. Sinistra 3 meno torna. Sinistra 3 per tempi, ora. Abbiamo inizia 30 tempi. 5, vai, vai, vai. Alla stagionata destra 3. Per destra 4, 150. Ai paletti, tornate sinistra 2, 50. Ora riprende la tenta di promessa, è molto spesso la staccata. Tornate sinistra 2, 50. Vai, 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 tornate sinistra 2. Sì, can, destra sinistra 4, 50. Ora destra sinistra. Ora destra 4, apre il cartello di vento. Destra sinistra, destra 4, apre il cartello. Ci spetta. Alla stagionata. Destra. Destra sinistra, attento a destra 4 meno. Ora attento a destra 4 meno. In sinistra 4 meno. Vai, vai, vai. Destra 4, apre. Quattro apre. Per destra 4. Per sinistra 3 più. Per più interno, per 50. Mi spetta, interno. Per 50. Vai, vai, vai. Destra veloce. Per sinistra 5. Per destra 4. In sinistra 4. Per destra 5 meno. Con destra 200. Per destra 5 meno. Con destra. Stai andando un schieno di prima. Quattro apre il cartello. 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 Vai, vai, vai. Ma i calmi di destra 4 chiude. Di destra 4 chiude. Di sinistra 3 e 2 tempi. Questa è la 3 e 2 tempi, io credo sia parte da qui. Ma sta comunque in sua parte. Vai, 150. Destra e sinistra a vista. Alla pernale a sinistra 4. Alla pernale a sinistra 3 chiude il rai. Alla pernale a sinistra 3 chiude il rai. Di sinistra 3 più 30. Di sinistra 3 più 30. Al fondo a destra 5. Per sinistra 5. Per 30. Al fondo a destra 3. Di sinistra 3. 30. Alla pernale a sinistra 3. 50. Alla pernale a sinistra 3. Al cartello rovescio destra 3 è lunga. Al cartello rovescio destra 3 è lunga. Al cartello rovescio destra 4 meno. Al cartello rovescio destra 3 è lunga. Al cartello rovescio destra 4 è lunga. il sinistra 3, 40, vai vai, destra 4, 100, vai panetti, sinistra 5, due tempi, ripeto, sinistra 5, due tempi, 30, sinistra 4, vai, sinistra 4, di destra 4 più, 50, ai sassi, destra 4 più, 200, 4 più, 200, intanto il cartello, sinistra 5, meno, intanto il cartello, sinistra 5, meno, per destra 5, vai, vai, sinistra 5, veloce, per sinistra 5, per sinistra 5, più veloce, 100, al paretto, stai destra, destra 5, subito sinistra 4, subito sinistra 4, per destra 5, lunga, lunga, vai, destra 5, lunga, lunga, per destra 5, lunga, 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 Tornante destra 1, fallo in prima, tornante destra 1, fallo in prima, centro vista, all'Irland, tornante sinistra 1 qui, tornante sinistra 1, destra 4, per sinistra veloce, per destra 4, 3 tempi, più dell'ultimo, qui 3 tempi, più dell'ultimo, qui sinistra 4, qui più dell'ultimo, sinistra 4, centro, sinistra 4, 80, all'ultimo, destra 3 più, ripeto, destra 3 più, in sinistra 4, per sinistra 4, per destra 4 sporca, per la destra 4 molto sporca ora, in sinistra 3, fa la traiettoria, vai è pulita, sinistra 3, in destra 3 sporca, anche questa è sporca, 50 sporchi, al cespuglio, sinistra 4 più, 50, sinistra 4 meno, questa 4 meno, per destra 3 più, vai vai, destra 3 più, per sinistra 4, ripeto, sinistra 4, attento, sinistra 3 ora, attento, sinistra 3, in destra 3, vai vai vai, per sinistra 4 lunga, attento, E-Rail chiude in 3, questa è lunga, E-Rail chiude in 3, per destra 3, vai chiude in 3, 3, così, ora, destra 3, 30, benissimo, destra 3, 30, E-Rail, sinistra 4 lunga, questa è la fine ora, sinistra 4 lunga, bravo Stefano, no, no, si è peggiorato una cifra, 10 secondi peggio, 9 e 10, sono freni, non ci stare sui freni, si pensa a freni, una pinza che si è allentata, non blocca, fa questo rumore, cosa è la fine? Grazie a tutti.